Siamo con Gaston Ccellerino. Allora Gaston, finale conquistata dopo due partite stancanti, ma il rigore nel finale questo è importante. Sì, abbiamo fatto una bella partita, difficile, questo campo con loro, c'è una buona squadra. Abbiamo fatto il gol, quello non ha lasciato più tranquillo. Adesso siamo alla finale, dobbiamo riposare e arrivare al migliore prossimo. Come stai? Visto che sei tornato a giocare finalmente dall'inizio, come stai e come ti senti? Eh, oggi mi è sentito un po' strano, il campo, il caldo, è tornato dopo un mese di stare fuori, intanto niente, minuto a minuto vado a migliorare e speriamo che la finale possa stare ancora un po' meglio. Ora ho il tuo commento sulla Coppa America, quindi cosa aspetti da questa importante manifestazione? Quale sarà la tua pensione secondo te? Chi vince, anche se l'idea c'è già? No, eh, speriamo che può andare tutto bene per l'Argentina, no? Io sono argentino e spero che che Messico possa fare quel sogno che ha lui e niente, accoggiare il mare di qua. Grazie mille e bocca al lupo. Ciao, ragazzi, grazie. Grazie mille e bocca al lupo. Grazie mille. Grazie mille.